È il momento di consegnare i vostri test. Ehi! Tu ero nella sua classe nel 2006! Jason Sherwood! Pensavo che ormai facessi turore a Broadway. Ho portato il testo che ho scritto per la tesi. È una storia molto personale. Jason, e se ci fosse un modo per produrlo immediatamente? Oh, è straordinario! Mi sento trasformato! Jason, ti dovrei parlare, esci. Stiamo provando. Mi scusi, ma io devo parlare con mio figlio adesso. Sai che ti dico? È un prepotente e qualcuno deve dirgli che sbaglia. Oh no! Per il bene dello spettacolo dobbiamo essere più professionali. Certo. Sei gelosa! Come scusa? Vuoi fare una sveltina sulla tua scrivania? Oh, santo cielo. Salve, dottor Sherwood. No, lui no. Mi mandi qualcun altro, per favore. Questo è imbarazzante. Vai, Sherwood! Come va il suo collo? Dica quello che deve dire. Che razza di insegnante è lei? Non sempre la vita. Avete lavorato duro e sarete magnifici. Segue il copione. Il finale fa schifo. Avevi detto che adoravi il finale. Ecco, a volte sbaglio anch'io e tu lo sai bene. Linda, ho dei dolori al petto. Mi stavo rendendo un infarto. Chiamami! The English Teacher